Caterina continua il suo racconto. Allora alzai gli occhi in volto alla Vergine, feci un salto e mi gettai in ginocchi sui gradini dell'altare, appoggiando le mie mani sulle sue ginocchia. Quello fu il momento più dolce della mia vita. Mi è impossibile esprimere tutto quello che provai. La Madonna mi disse, figlia mia, il buon Dio vuole affidarti una missione. Sarai contraddetta, ma non temere, sarai sostenuta dalla grazia. Tu rendi conto di tutto con confidenza e semplicità. Abbi fiducia, non temere. La Vergine mi insegnò come comportarmi con il mio direttore spirituale e molte altre cose. La Santa Vergine aveva l'aria molto afflitta, parlando dei tempi difficili che attraversava la Francia e il mondo intero. Aggiungendo, ma venite ai piedi di questo altare, qui le grazie saranno sparse su tutte le persone, saranno sparse sui grandi e sui piccoli. Mi insegnò anche il modo di comportarmi nelle mie pene future, cioè mi invitò ad andare ai piedi dell'altare e ad effondere lì il mio cuore. Non so quanto tempo io sia rimasta presso di lei, ma a un certo punto la Vergine scomparve, e io non vidi più che qualcosa che si spegneva. Infine, un'ombra che si dirigeva dalla parte della tribuna, d'onde era venuta. Allora mi alzai dai gradini dell'altare e scorsi di nuovo il fanciullo nel luogo dove l'avevo lasciato. Questi mi disse, è andata via. Rifacciamo così lo stesso cammino, sempre tutto illuminato, con il bambino sempre alla mia sinistra. Credo che egli fosse il mio angelo custode, resosi visibile per farmi vedere la Santa Vergine, perché io l'avevo molto pregato per ottenermi questo favore. Ritornata nel mio letto, sentii suonare le due del mattino, e non potei più riprendere sonno. Impegno Con tanta fede e tanto amore, spiritualmente appoggiamo anche noi le mani sulle ginocchia di Maria. Parliamole di tutto e cerchiamo di far silenzio per ascoltare la sua voce, le sue raccomandazioni, i suoi desideri. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te, e per quanti a te non ricordano, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Grazie